buongiorno buongiorno benvenuti in un nuovo svuoto la spesa buongiorno buongiorno saluti buongiorno come sale tutto bene troppo aspettate che cristiano è alto purtroppo io sono un metro e 60 e lui è un metro e 80 ora si sta sempre accorciando anche lui perché la vecchiaia incomincia scusate sono tornata poco da lavoro e quindi scusate la mia miss un po così la miss in blanca e la miss in francese come il fansoa lui stamattina è andato a fare la spesa allora stamattina dato che il mio datore di lavoro mi ha regalato un giorno di ferie visto che era da tanto quando rimanevo a casa allora che cosa ho fatto ho detto Giuseppina tu vai a lavorare tu vai a lavorare se vuoi ti vado a fare la spesa cosa che a me non mi pesa e sono andato al Lidl e poi sono passato al Conan perché al Lidl non avevo trovato una cosa per il gattino il nostro pallino il nostro pallino si perché lo chiamiamo pallino va bene allora vogliamo iniziare che questo svuota la spesa allora come prima cosa prendiamo questo dai ma questa è un po' la luce ma perché c'è Francesco scusate che accendo un'altra luce perché perché c'è Francesco che sta a fare la videochiamata dai la videochiamata hanno finito non è vero allora ragazzi vediamo posso iniziare? iniziamo con lo svuota la spesa allora come prima cosa ragazzi il mio solito latte questo qua scremato sempre di Lidl a me piace a me non piace perché è scremato si vabbè però guarda che ti ho comprato e poi l'hai comprato il disinfettante ancora ce l'ho però come scorta è ottimo gli devo dare la mano complimenti Cristian no perché tu hai detto che ti sei trovata benissimo benissimo mi trovo benissimo perché ce l'ho ancora ecco poi ecco abbiamo preso la Mutti questa qua per fare la usiamo da per metterla sopra la pizza questa poi però voi comprate quelle piccoline eh perché noi usiamo una grande e una piccola per non sprecare due grandi è forte è forte è forte è forte è forte poi pomodori questi qua datterini italiano questi qua e poi ha preso la coca zero zuccheri per francesco ottimo ottimo è una busta si perché ho messo quella va bene Cristian te va bene poi ho comprato no vabbè il solito trolley però questo è nato trolley però questo è nato trolley però questo non è un trolley da cucina questo è il trolley da bagno eccolo qua perché la caccaiere ecco praticamente sono 12 rotoli maxi in questo periodo se qualcuno è dai smetti la allora poi è un ottimo peper poi Cristian mi ha preso due pacchi di questi qua il pan baoletto cereale e soia e devo dire che sono buonissimi e molto molto morbidi si questi me li ha consegnato una ragazza e quindi grazie mille vabbè una soia e una integrale si sono stato bravo bravo ma tu sei bravo Cristian guardati i bimbi grazie poi ragazzi io adoro questi pomodorini questi sempre datterini sono molto molto buoni ecco mentre che fai vedere questo perché a cosa serviranno questi ma vi spiego io si 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 vanno a vedere cosa ho comprato buonissimo ragazzi allora vabbè fa vedere allora prima questo e ve lo consiglio questi sono quelli del se potete comprarlo il pesce fresco lo comprate certo però se qualche volta le volete avere di scorta io ho comprato questi qui di orata che sono i filetti di orata buonissimi allora ottimi cari ragazzi vedetemi sono ottimi già sono sfilettati non ci sono spine ma piccolissima e li potete fare in padella se non lo so mai qualche volta le faccio vedere si in padella con olio aglio e prezzemolo pomodorini tratterini e filetti di orata ragazzi ci siamo meravigliati mio figlio che erano buonissimi buonissimi veramente semmai qualche volta vi faccio vedere come vi faccio è semplice è una bombola eccezione poi panini questi qua ah poi ho preso anche la verdura della Lidl eh questa la faccio vedere e poi vedete è perché ho già messo dentro le condizioni è che ho messo eh condizionatore allora congelatore allora ho comprato i microfiori di spinaci io non lo so che cosa penso che siano spinaci poco più più delicati sono diverse a foglie surgelate una a una ma queste sono buone sono buone poi ragazze ha preso il cioccolato fondente questo a 74% ti piace così vi faccio vedere poi ragazzi ho preso i broccoli broccoli sempre a Lidl e poi vedete che sono passato al Conad a fianco al Conad e ci sta un negozio che sta solo a Perugia perciò non mi chiedete che vende roba surgelata è Perugino questo negozio e ho comprato i polipetti piccolini mamma mamma polipetti che faremo una ricetta e può darsi che ve la facciamo vedere può darsi perché è buonissima la faccio vedere la faccio vedere va bene poi ho preso la pappa per il gattino ho preso quattro vaschettine salmone ho preso patè di pollo prosciutto tacchino e salmone le ho fatte mangiare prima e fumbacchione i gattini l'aglio poi la mozzarella questa qua che a me piace veramente tanto sempre da mettere sulla pizza ovviamente poi ah Cristian ha preso il riso basmati perché qualche volta voglio fare il pollo al curry che faccio io però ho deciso di farci il riso vicino proprio tipo come facciamo noi i giapponesi i cinesi più gli arabi non lo so chi è che accompagna il resto i cinesi ma pure gli arabi vabbè comunque voglio provare questa combo la mangia il resto del mondo comunque ho fatto bene ma io lo vedevo piccolino così è così così tranquillo poi ha preso le banane sono un po' verdi queste banane erano così poi parmigiano questo è un reggiano 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 di origine protetta poi parmigiano le insalate queste sono buonissime pure di bue pure di bue e poi le patate queste qua oddio mio queste qua molto tutto è buono poi l'altro gusto l'abbiamo svuotata e poi sono passato da mia sorella a salutarla che mi ha dato l'insalata infatti l'insalata qua non ve la faccio ma questa è l'insalata e poi come vi dicevo sono passata a Conad spesa al Conad ma come sono bravo a fare spese ma scrivetelo qui sotto il formaggio fresco spalmabile light per la sua mogliettina scolta ho fatto bene benissimo ma tu hai sempre fatto ma poi mi voglio far vedere io ragazzi più viziato di lui non c'è perché non c'erano le crocchette a Lidl eh va bene il pacco esagerato ho detto no sono andato ancora da più però non potevo pigliare solo il coso per i cani eh non certo poi l'olio questo qua dell'acidio lo prendiamo spesso però questo ed era in offerta guardate che cosa ho preso allora non lo so è la prima volta che la vedo è una birra dello stretto siciliano siciliano praticamente viene fatta Messina prodotta Messina questa qua perché io sono amante come si fa? ma viene da Finder mamma mia eccola qua io sono amante delle birre buone e in ultimo periodo sono amante della birra italiana e mi piace provare questi tipi di birra non è tanto economica vabbè diciamo non è che costo chissà quanto però per una bottiglina così e poi poi mmm i biscotti i miei preferiti i miei preferiti i miei preferiti i miei preferiti è stato bravo questo è quanto ragazzi è finita la spesa si ma l'aglio sta qui perché oggi oggi lei deve fare la dieta e mangi quello che vuole lei io invece invece faccio i spaghetti aglio olio e peperocino che uno dice è una cosa semplice no no è buonissimo non è semplice poi è buono eh perché devi far formare quella cremina della pasta con l'olio qua della pasta allora ragazze mmm dopo ve lo faccio vedere ma mamma che ci ti fa vedere a Giovannina fa spaghetti con olio e peperocino avete ragione si sta si sta spegnendo la telecamera o si è spenta no non si è spenta si è spenta perché ogni 10 minuti abbiamo capito che si spegne si vede che ma chissà come mai io ho già saputo farlo fa la pausa caffè è stendato stanche pure sta videocamera vabbè comunque è semplice è semplicissimo ragazze olio aglio prezzemolo e il peperoncino fate il soffritto poi dopo la pasta la colate leggermente al dente la mettete in padella gli aggiungete un mestolino di acqua e conservate l'acqua della cottura della pasta e fate finire la cottura amalgamare tutto in padella e poi anche a crudo io non la sto mangiando la pasta quindi anche a crudo il prezzemolo che dà un profumo eccezionale ok va bene ragazze noi speriamo che questo piccolo svuota la spesa ma molto concentrato vi sia piaciuto ma si ma qui si ma polliciate tanti pollici in su ma si ma si e iscrivetevi al canale mi raccomando ma si lei è contenta che ho fatto più spesa perchè quando usciamo sabato poi c'ha più tempo per uscire il negozio devi stare attento non lo so dipende come mi svegli sabato vabbè tutti questi problemi non lo vedo vabbè comunque ieri che sono passata a comprare una cosa a francesco il negozio mi hanno misurato anche la febbre quanto ci avevi 36 e 6 mmm ma si sta passando la febbre però sinceramente non è che va bene però quando mi mi sono la febbre c'è sempre quella cosa no ma se tenga la febbre eeeh che succede ma facendo una casa ma facendo pure calda ci piace portatevi a questo anche vabbè fanno vabbè comunque ragazzi ragazzi comunque grazie di tutto è stato un piacere seguiteci anche su instagram vi raccomando lo scriverò sempre qua e noi ci vediamo presto con un altro video scrivete nei commenti che sono brava a fare scopete scopete sempre sono brava a fare la spesa diteglielo si si senza di me mmm un bacione ciao ciao